E' come se un'onda di dissenso si fosse infranta sul molo di Levante, ovvero su quel tratto del porto di Pesaro con una vista panoramica con poche uguali in città che da ieri si ritrova disturbata dalla predisposizione di paletti protettivi biancorossi, la cui installazione è stata accompagnata da un tantam social di disappunto per un effetto deturpante al di là di una misura di sicurezza ritenuta di dubbia efficace. E' parte integrante del coro di dissenso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha chiesto ufficialmente la rimozione all'attualità portuale la quale ha semplicemente recepito una direttiva della Capitaneria di Porto. O meglio di un provvedimento voluto dall'ex comandante della Guardia Costiera Barbara Magro che ha lasciato Pesaro lo scorso settembre predisponendo questa misura per l'estate 2023 e che oggi non fa altro che applicare la Capitaneria attualmente preceduta da Claudia Di Lucca. L'autorità di sistema portuale attraverso una nota ha già chiarito che il provvedimento viene realizzato per il miglioramento della sicurezza dell'area portuale dove è consentito l'accesso pubblico, l'installazione di carattere provvisorio per rispondere alla richiesta dell'autorità marittima. Autorità portuale che si dice già interessata a concordare la predisposizione di adeguamenti più idonei anche sotto il profilo estetico condivisi con l'amministrazione locale. Un'eventuale sostituzione sulla quale interviene il consigliere regionale Andrea Biancani. Ho contestato al di là della bellezza di questi paletti, io non ne vedo sicuramente la esigenza, in quel punto del porto non è mai successo nulla, se poi dovessimo mettere i paletti lungo le darsene dove la darsene non è protetta dovrebbero mettere i paletti dappertutto e non si è mai visto un porto con i paletti per evitare che le persone cascano in mare. Il porto di peso è grande, andare a mettere i paletti lungo 100-150 metri secondo me non è sicuramente indicato, ma io ho sentito qualcuno che ha rilanciato dicendo che almeno che vengano messi più carini. Io sono contrario al fatto che vengono, anche se sono messi più carini, perché dal mio punto di vista non devono essere messi, perché non ha senso, in nessun porto ci sono i paletti appunto per evitare che le persone cascano in acqua. Il porto di peso ha altri problemi, prima di tutto il tragaggio, quindi come autorità portuale ritengo che si debbano accelerare per questo progetto che deve consentire di far vivere il nostro porto e dall'altra parte se c'è un problema di sicurezza c'è lungo la strada dei due porti dove ormai lo sanno tutti, ma sono anni che ci sono i ragazzi che con le moto, con le macchine fanno oltre 100 km orari in una strada stretta dove ci sono le persone e devo dire che ho visto molto raramente delle pattuglie ferme per controllare appunto queste persone che vanno ad alta velocità.